E' bello a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Crysis 2 Eravamo arrivati che siamo passati dai tetti per avvicinarsi pian piano alla culla Dove si trova la nuova postazione per modificare la nostra tuta E vedere che cosa ha in più rispetto all'originale A quella che aveva prima il nostro precedente suori Grazie, mi riesco a venire a parlare Per tutto questo ragazzi io vi ho una buona visione e un buon divertimento Vediamo cosa succederà Invece è meglio se tu passi dal tetto Vai presto Localizza la culla per la scansione Porta della nanotuta Trova il modo di accedere all'edificio safe Ok, il tuo diversivo ha funzionato Stanno allontanando le truppe da Wall Street È la nostra occasione Ora ascolta, io cercherò di entrare dai livelli inferiori Invece è meglio se tu passi dal tetto Fai presto Localizza la nulla per la scansione profonda della nanotuta Trova il modo di accedere all'edificio safe Corazza la cima Sento qualcosa, vado a controllare Occulta nel contido Non c'è quattordi 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 Eh? Ma qui, scuole Violando il perimetro di Guantino Ripeto Profet ha violato il settore Alba Vado a dire tutti qui, presto Avanti, brule Zappa, culo Degli spari Vado a controllare Degli spari Possibile contatto nemico Zappa, culo Scusa Appa Libero, il superfasso. Lo scopro. Eppari! Vado a controllare! Nessun contatto! È lui! State all'amorità. Il rasmesso verrà soffreddato. Avanzate! Avanzate! Torque! Devtoultanale! Ah! Sì! Sì! Avanzo e fatti riconosci! Eh, Prophet! Abbatteteli! Emerald 2, qui Anthur 3. Stiamo arrivando al settore Alba. Anthur 3, sui tetti! Pateraporto! 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 Sì, 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 sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. 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 Sì, sì. 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 Sì.